La fascia a sinistra sia del Grosso che del Grosso sono abili nell'andare a cercare il Grosso. Terzo Grosso insieme, la Roma ne ha battuto i cinque. Batte Grosso, mezzo! Nessù fuori il burdizio, è la parte del preparatore di Grosso, perfetto del controllo di Grosso, che ripropone la sinistra, accendono l'uscita l'obbota, poi si ferma, la spuota di canale a Bostoni!